Benvenuti ragazzi da Iron Deer te da... Lorenzo... Aspetta non ho acceso le casse Benvenuti da Iron Deer te da... Lorenzo, cioè Cristian Tito in game e da Ilanair Ok, intanto mi tolgo gli occhiali, voi votate Cioè non votate, vi iscrivete e mettete mi piace Intanto Cristian Tito fa partire, cioè apre le porte e toglie il ghiaccio Praticamente, semplicemente questo è l'evento Sky TNT I player dovranno semplicemente correre e non cadere schiacciando le presse della TNT Tra pochi secondi si avvia, intanto ci faccio avviso Correte Parlate pure se volete parlare Ok, e corro anch'io Intanto nella chat, in sinistra potete vedere i secondi e automaticamente partirà il gioco Come vedete ci sono delle pedane I player che corrono Eh sì, però devi dare permesso perché è indicato RG Che possono andare in là Sky Team E P Interact E gli altri che corrono Ok, adesso posto, 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 vai vai Lag, 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 lag Fammi mettere Deiva Oh, no, si è caduto Vabbè, vieni ci e andiamo da Iron Poi, in pratica è molto semplice e molto veloce a quanto pare Perché tutti... Ah Sai, mi sono dimenticato Chiudi le porte e sopra, insomma quelli tornano a cadere Non ho neanche visto chi era il tema Secondo Non ce l'ho capito niente Ok, hai visto il vincitore oppure... No Ok Io credo, non mi vero Toglio Ah Ok Credo di aver passato bene Ho fatto bene oppure... Sì, sì, vai, vai, vai Boh, diciamo, vedremo dopo nel video chi ha vinto La, 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 la Sky Team EATI Vai Avvia Cioè, aspetta, aspetta, non avviare Oh, no, no, no Toglio il ghiaccio prima Aspetta, faccio, faccio stop, stop No A me senti che ti ghiaccio la taglio io Quanto tempo Mi attento a sbagliare Benito Zero place, 20 Zero Va, iniziate a correre Va beh Aspetta, slash, avviso Correte Ok 3 2 1 Start Io mi metto Troppo lag Non è partito Hai clicato il tasto? No, ma va, è troppo lag Non è partito Beh, va, va, vado io Stato 4 3 Ok 2 1 Ah, ah, buona fortuna Eh, già caduti tu Guarda bene chi vince, chi rimane ultimo Io sono caduto, vabbè No Ecco, vediamo chi rimane Intanto mi metto qua E si vede Ah, aspetta Intanto noi come dei lezzini stiamo con la fly Ok Oh dai la nera è caduta La gente che mi deve passare davanti tutte le volte Che devo cadere A quanto pare, l'ho visto No, l'ho visto bene Comunque ero uno vestito di rosso Vai col tarzanato Ok, ripristino Perfetto Primo stop Qua è il cristino Vai Aspetta fammi far Togliere il ghiaccio Allora Sotto 30 fps Perché Te l'ho messo Qua è Bastano tempo Aspetta non fare adesso All start Poi farlo adesso Intanto Vediamo cosa succede È venuto un mezzo disastro Sto evento Vabbè Per la prima volta Occhio Occhio Vediamo chi cade per primo Ok Perfetto Tutti L'hander che è caduto No Slagga 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 Troppo Per farlo Cioè Non Ti do gli miei Da chi Davanti Occhio Ok Guarda bene Che Guarda Spero Fai slash Slash Uno Sennò Mi sa che The Bomber Che Super Bomber Che sta mica Vediamo se cade Ok Il terzo è lui Sì Bene ci vediamo Nel nostro prossimo evento Sicuramente fatto meglio E ciao Ciao Che schifo Che schifo Che schifo Ciao